Sì, il messaggio o i messaggi che ci vengono trasmessi da questi esseri meravigliosi, l'amico Setun Sener, il fratello, un maestro, un fratello maggiore se volete, è parte della mia vita. Lui ha l'incarico insieme a una squadra di altri fratelli del cielo di essere i miei tutori, i miei guardiani, i miei fratelli che proteggono la mia vita in tutti i sensi e sono anche le guide che ho in questo momento. Quindi il messaggio è molto chiaro, loro sono presenti, loro si fanno vedere, loro hanno scelto la nostra comunità per dare dei segni sul campo ufologico i più importanti al mondo. Quando parli di comunità, Giorgio, puoi spiegare meglio al pubblico che ti ascolta? Perché magari poi gli viene in mente, sai, le comuni, quelle cose un po' anni 60, figli dei fiori? No, la nostra comunità, confraternita, associazione, chiamatela come volete, noi chiamiamo in forma un po' poetica, biblica, le arche, hanno scelto alcuni di noi, in particolare uno di noi, per fare questi filmati, che si chiama Antonio Urzi, che saluto caramente, e che è uno dei nostri fratelli, che fanno parte delle arche, che ha sensibilità a questo programma, insieme a sua moglie Simona, per poter dare questo tipo di messaggio ed essere testimone della verità in questo campo, appunto. Mentre un altro della nostra comunità, o associazione confraternita, chiamatela come volete, che è stato scelto per ricevere dei messaggi, per parlare direttamente con loro e trasmettere segni cristici, è il sottoscritto. Quindi noi non ci esaltiamo, non ci sentiamo superiore a nessuno, sappiamo con responsabilità qual è il nostro compito. E quindi se tu un scenare in questo caso spiega perché si fanno vedere, perché hanno scelto noi, qual è la loro, loro sono qui in missione per dare un messaggio spirituale cristico, sono legati profondamente a quell'essere divino che noi abbiamo chiamato Gesù Cristo e vogliono, sensibilizzano piano piano, con molto amore, con molta pazienza, l'umanità a prendere coscienza della loro esistenza. E quindi stanno preparando un contatto planetario. Il fatto che siamo stati scelti noi per fare, anche noi, grazie a Dio nel mondo ci sono altri che filmano, che hanno contatti, però noi dobbiamo essere onesti, umili, ma onesti anche, realisti. Noi presentiamo i filmati più importanti nel mondo dell'ufologia, dell'ufologia storica. Non ci sono in questo momento dall'estremo Oriente all'estremo Occidente filmati di tale portata, perché sono delle astronavi ravvicinate a tutto schermo, in forma metallica, di luce, energetica, di sfera, triangolare, il classico disco volante, sigaro, in tutte le forme della storia dell'ufologia le filmiamo noi. Quindi siamo contenti, non vendiamo questi filmati, li presentiamo gratuitamente a tutta l'umanità con un messaggio ben preciso. Gli ultimi filmati di Antonio hanno un percorso ben preciso, molto chiaro, avallare la nostra opera, che è anche di denuncia contro i mali del mondo, e preparare l'umanità a questo contatto. Ecco, infatti, Giorgio, c'è un altro comunicato che tu hai scritto il 21 di novembre, un comunicato che è in relazione ad un'altra sfera di luce che è stata filmata in Messico e che passa vicinissima ad un aereo. Ecco, in questo comunicato tu appunto dici che gli esseri di luce sono presenti e operanti sulla Terra e il programma contatto planetario è in corso. Quindi c'è la previsione di questo grande contatto prima che magari accadano determinate cose che biblicamente, secondo la profezia, noi sappiamo anche essere grandi sofferenze dell'umanità. Quindi ci sarà un contatto, una manifestazione globale prima? Allora, per quanto riguarda quel filmato è la prova che non siamo solo noi, grazie a Dio, che ci sono altri amici, anche sconosciuti, che filmano di questa realtà, di questi esseri di luce. I filmati, a mio giudizio, avallano ciò che filmiamo noi, perché la sfera che ha filmato Antonio ultimamente è pressoché identica a quella sfera che passa vicino l'ala di quell'aereo in Messico, dove non è successo niente, nessuna catastrofe, perché loro non sono qui per farci del male, tutt'altro. Il contatto si avverrà prima delle catastrofe, o prima dell'arrivo di Cristo, o prima di qualsiasi evento che voi possiate immaginare, non lo so. Io spero tanto che questo contatto possa avvenire domani. Sto lavorando per questo. Gli extraterrestri mi hanno detto che loro sono consensienti, sono pronti a questo contatto prima della seconda venuta di Cristo, molto prima, come ultimo tentativo di svegliare l'umanità dal percorso che ha intrapreso alla cieca, o da dormienti, o da deliranti, da perversi, verso l'autodistruzione. Noi stiamo andando verso l'autodistruzione. E gli scienziati lo dicono tutti, per l'inquinamento, per le guerre, per le malattie. Ecco, loro vorrebbero farsi vedere da tutto il mondo per dare un messaggio di pace e di giustizia. Ma non sono sicuro che lo faranno, perché nemmeno loro sono certi al 100%. Tutto dipende da noi, soprattutto da noi. Dal fatto che l'umanità è desiderosa di avere un contatto con il cosmo, se l'umanità ha desiderio, amore, per poter uscire dai gravosi problemi che l'attanagliano, se c'è veramente un desiderio di pace, di fratellanza, di cambiamento, da parte almeno del 50% dell'umanità, che vuole che il pianeta si migliori, che vuole che noi stessi, la società, possa vivere in pace, in fratellanza. Ecco, se ci sono questi presupposti, loro sono pronti a farsi vedere. E intanto mi hanno detto, tu vai avanti, fai conoscere la nostra realtà, buttati di nuovo dentro con i tuoi fratelli, tu sei tra questi, forse insieme a pochi altri più importanti al mondo, e poi noi decideremo in base alle direttive che ci daranno quegli esseri che voi chiamate divini e che per noi sono dei maestri cosmici e noi potremo fare questo tentativo. Noi siamo pronti per farlo e anche siamo felici di farlo, ma prima di questo daranno dei grandi segni perché loro vogliono vedere se c'è questo desiderio. Quindi io prevedo filmati di Antonio impressionanti da fare vedere nelle televisioni di tutto il mondo con la nostra presenza che diamo il messaggio, ma anche filmati di altri Antonio Urzi sparsi per il mondo e quindi dopo aspettano la risposta dagli atteggiamenti, dagli articoli di giornale che vengono pubblicati, dalla risposta dei potenti, ma soprattutto dalla massa e quindi in quel momento se vedono che ci sono i presupposti minimi, anche mediocri, ecco, e allora atterrono massivamente di fronte a tutti. Ma se non ci sono i presupposti nemmeno mediocri, il nostro lavoro non è che sarà vano, no, ma si limiterà a salvare il salvabile. E poi loro... Cos'è il salvabile, Giorgio? Lo puoi definire per il pubblico che ascolta. Nel concetto degli extraterrestri, che significa il salvabile? Cioè che caratteristiche deve avere un essere umano per meritarsi questo aiuto che proviene dal cosmo? Il salvabile sono tutte quelle persone, qualche milione, e tutti quei bambini, centinaia di milioni, che innocentemente non meritano di fare una brutta fine, e quelle persone, alcuni milioni, lo so che sto dicendo, sto giudicando implacabilmente miliardi di persone, ma questo mi hanno detto. Sono alcuni milioni di persone nel mondo, oneste, buone, altruiste, solidari, giuste, non sono miliardi. Quello è il salvabile, che loro farebbero entrare in astronavi gigantesche per evitare che possano essere distrutti da una catastrofe, da una bomba atomica, da un cataclisma planetario. Quello è il piano B che loro hanno, il più drammatico, che metterebbe in salvo il salvabile, quella massa critica di persone che possono ripopolare il pianeta dopo un'eventuale catastrofe planetaria. Scusami se insisto, Giorgio, perché nel messaggio di Fatima, nella versione diplomatica, parlo del terzo segreto, la Madonna dice che i buoni periranno assieme ai cattivi, quindi questo salvabile deve avere la caratteristica che già tu altre volte hai spiegato, cioè di essere persone che si impegnano realmente in una causa giusta, cioè non persone brave, oneste, ma questo è il minimo, ma devono essere persone, tu hai spiegato che, o ti è stato spiegato da questi esseri, che si impegnano, che percepiscono il bene comune, il problema planetario, cioè che danno un contributo al miglioramento della società umana, giusto? Sì, assolutamente, sono delle persone che nel loro lavoro, qualsiasi esso sia, qualsiasi religione, anche la non religione, laica, qualsiasi professione, dalla più nobile alla più altolocata, alla più semplice, alla più umile, sono persone che danno la faccia e danno un contributo lottando nel loro tempo libero, perché sono persone che lavorano, che mantengono la famiglia, che rispettano le leggi dello Stato dove vivono, ammesso che lo Stato sia democratico e non uno Stato di dittatura, e poi dedicano la loro vita al miglioramento della società, nella politica, nella scienza, nell'arte, nella religione, nella società, nella medicina, in tutti i campi, e quelli sono quelli che saranno posti, potrebbero essere posti, in salvo, perché poi il mondo, se dovesse soccombere con un'autodistruzione e una guerra nucleare, loro, gli extraterrestri, in tutti questi cento anni di contatto, dagli anni 30-40 fino ad oggi, loro hanno archiviato le generazioni, quelle famiglie, e quelle persone singole, che hanno, sono intelligenti, e sono altruisti, e quindi sono in grado di poter ricostruire una nuova civiltà basata sulla pace e la fratellanza, quelli che non sono idonei, non è che li eliminano, loro osservano, vedono che ci elimineremo tra di noi, tengono, ci tengono ad alcune persone, sto parlando di milioni, che sono altruiste, quelle, loro, le vogliono aiutare con la loro altissima tecnologia e porle in salvo qualora dovesse succedere una catastrofe planetaria, ma prima di arrivare a questo, vogliono fare dei tentativi e li stanno facendo di contatto diretto con la nostra società per traumatizzarla, scioccarla positivamente, in modo che invece di 10-20 milioni delle persone che possono salvarsi diventino 3 miliardi, 4 miliardi, e allora loro prendono posizione su tutto il pianeta, cioè, non è che lo invadono, ma condizionano tutti i potenti del mondo a fare quello che loro dicono, se i potenti e gli eserciti del mondo non vogliono scatenare loro una guerra, perché questo significherebbe la nostra fine, cioè che se ne vanno, si smaterializzano e ci lasciano morire nelle nostre miserie. grazie a tutti.